Ciao amici di KaroCenRoll, oggi è una puntata un po' speciale, siamo qui a Legend Studio, storico studio di registrazione e sala prove della Capitale, che è un po' una seconda casa dei Bullet of Noise che sono qui con noi oggi, è vero ragazzi? Suoniamo spesso qui. Ciao a tutti, ciao amici di KaroCenRoll, siamo qui oggi per un puntatone speciale con, però lo devo pronunciare bene, Bullet of Noise. C'è una canzone, perché abbiamo una canzone che si chiama Bullet of Noise, il ritornello dice We are like Bullet of Noise, noi siamo con una pallottola di rumore, semplicemente se ascolti quella canzone capisci che genere facciamo. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.